Giovedì 22 giugno ci troviamo a Bologna per un nuovo workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editori. Il tema della giornata è l'involucro sostenibile, l'efficientamento degli edifici, nuovi materiali e tecnologie. Tanti progettisti hanno partecipato a questa giornata di formazione, tante anche le aziende che hanno potuto raccontare le novità presenti oggi sul mercato. Allora vediamo il servizio che abbiamo realizzato. È un sistema sicuramente innovativo che offre grandi possibilità e un sistema molto pratico per l'utilizzatore che poi alla fine è quello che valorizza il prodotto nella fase finale. Perché poi a livello progettuale uno può fare grandi cose, ma poi di fatto in cantiere ci vuole un prodotto che sia alla portata di tutti. E la Paver è riuscita a fare un sistema costruttivo con grandi qualità tecniche e in grado di essere utilizzato da qualsiasi operatore. I vantaggi più interessanti del BioPlus quali sono? I vantaggi dal punto di vista tecnico, sicuramente della trasmittanza termica e dal punto di vista dell'utilizzatore sono appunto il sistema secco e quindi consentono di non avere errori nella messa in opera.